Questa è la fase embrionale della ciclofficina che coincide con la primavera e l'esplosione creativa è arrivata intorno a noi. Alice sta dando 10 punti in più alla ciclofficina. Alice sta dando 10 punti in più alla ciclofficina. Alice sta dando 10 punti in più alla ciclofficina. Alice sta dando 10 punti in più alla ciclofficina. Alice sta dando 10 punti in più alla ciclofficina. Alice sta dando 10 punti in più alla ciclofficina.